salve in tutto dalla matri a no guardate qua guardate quanti gol sbagliati dal sassuolo prima questo qui con Miscironi tira parata arriva davanti alla porta Berardi parata di Viviano nel video che la Fiorentina per la palla arriva ancora Miscironi no tira Berardi Miscironi traversa e la Fiorentina poi regala le mese a trarre a sassuolo quattro cagioni limpide per il sassuolo che le sbaglia tutte prima col tiro di Misciroli ma poi lo pubblica tanto questo errore qua di Berardi che la tira addosso a Viviano e poi qua può far gol e la tira addosso a Magnanelli e poi i Misciroli che prende la traversa grazie un saluto da Robert Matri 4-5 gol in due azioni in un'azione praticamente sbagliata dal sassuolo grazie